Va scomparendo perfino l'intelligenza dei facciulli e gli adulti non hanno più memoria, ma anche la lingua va morendo, non ci sarà la neolingua a salvarci, ci saranno solo dei segni e dei grugniti. Se appena qualcuno mostrerà di comprendere, si dirà è intelligente e continueremo ad ingannarci, illusi d'aver capito. I poeti vanno controcorrente, coniano neologismi, allargano lo spettro semantico di sostantivi e verbi, limano le loro creazioni per accordare cuore, parola e cosa. Sugli schermi digitali invece la lingua italiana regredisce, nelle conversazioni quotidiane ricorrono vocaboli scontati e logori e alla fine ognuno resta col suo mondo segreto di significati, incapace di arrivare a una fusione di orizzonti che sigilli con il miracolo della comprensione, dell'intesa, l'incontro desiderato da tempo. Si consumano separazioni per comunicazione inefficace, ci si allontana dal proprio centro per una sorta di analfabetismo di ritorno, dove non so dare un nome alle mie emozioni perché mi mancano le parole e non so parlare alla persona che amo perché non sono in contatto con me stesso. Quando andremo in pellegrinaggio verso i poeti, in processione fino ai loro versi, a cercare parole per una notte d'amore o rinvenire un sinonimo di pandemia o addirittura scegliere un nome nuovo con cui chiamarci dopo questa passione.